amici di youtube ben trovai da marco liguori avviso importante quando questo video dovesse superare i 500 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo lasciate il vostro piace adesso per avere subito online un nuovo video di marco liguori amici di youtube vi ricordo anche che este video tambiene sta tradusito all'espagnol in questo video in via del tutto eccezionale non leggeremo un solo commento del giorno ma ne leggeremo ben quattro avete capito bene quattro commenti del giorno un incentivo in più per farvi commentare i miei video in questo video cari amici youtube cari amici che mi seguite anche su instagram marco liguori 7 narriamo una struggente dedica che albano ha fatto alla madre alla signora yolanda ottino yolanda ottino è scomparsa la settimana scorsa 96 anni in questi giorni ho assistito a tutta una serie di revival delle trasmissioni televisive degli anni 90 dei primi anni 2000 in cui yolanda ottino era ospite prima da pippo baudo nel 1991 poi da bruno vespa e devo dire che la signora yolanda era davvero straordinaria aveva un sorriso che contagiava tutti il suo candore la sua umanità i suoi valori erano un esempio per tutti quanti noi ho deciso di leggere quattro commenti proprio per suggellare lo straordinario affetto che la mia community ha dimostrato alla madre di alba che era un po la mamma o la nonna di tutti noi italiani e in generale l'affetto che continuo ad avere per la famiglia carrisi grazie alla mia community quindi canale youtube pagina facebook mi ero dimenticato di menzionarla albano carrisi fan club il fan club di albano a cui potete iscrivervi semplicemente lasciando il vostro mi piace alla pagina facebook e instagram marco liguori 7 tutti si sono stretti intorno ad albano e voglio leggere una bellissima dedica ricordandoci che come diceva il grande giacomo leopardi una persona muore soltanto quando muore l'ultimo ricordo di essa stando a questi presupposti noi non dimenticheremo mai la meravigliosa nonna yolanda ma albano ha fatto una dedica che supera persino le struggenti parole di giacomo leopardi vado a leggervela è una dedica molto bella il mio cuore a pezzi e sanguina da quando mia madre se n'è andata porto nell'anima una ferita e un dolore immenso ho perduto la donna della mia vita il mio amore più grande è stata lei l'unico pensiero che in questi giorni a pochi giorni da natale l'unico pensiero che mi fa stare bene è il pensiero che mamma passerà il natale in cielo con papà dopo essersi tanto amati su questa terra si sono ricongiunti in paradiso amici di youtube scusate ho bisogno di un fazzoletto mi sono commosso queste meravigliose parole di albano parole davvero molto belle parole che hanno toccato il mio cuore scusate di questo fuori programma amici di youtube del resto il bello della diretta mi sono commosso perché mai parole furono più accorate mai parole furono più straordinarie grazie ad albano ancora una volta dimostrato di essere un grandissimo amici youtube perdonate la mia commozione del resto su questo canale le notizie vengono narrate da una persona vera con sentimenti veri quindi questo è il bello della diretta vado a leggervi anche il commento in spagnolo per aiutare i tanti che mi seguono sulla pagina facebook albano carrisi fan club uno straordinario successo e diciamo che albano sorprendiò al mondo con una dedicazione una dedicazione molto profonda a sua madre iolanda grazie sattori se felices navidad a todos vado a leggerli quattro commenti due dei quali sono dedicati meritatamente direi a due amiche spagnole e ringrazio davvero tutti gli amici dei paesi latini davvero una soddisfazione essere arrivato davvero in tutto il mondo in pratica leggiamo i commenti di rosio espinosa hola rosio te llamas come la novia del attore italiano raul bova gracias por commentare in espagnolo gracias a ti rosio poi ci dice irma franco gracias marco dios te bendiga salute di o debbette bendiga tambien cara irma franco poi passo anche a due commenti in lingua italiana ovviamente grossa fetta di coloro che mi seguono i fan italiani di albano e romina è vero albano dice che è il contrario e come vedo albano non vede l'ora che si spargli almeno un po di silenzio rispetto per il lutto lucia jovine ci dice così josi ferri dall'australia ci dice ciao marco il lutto si porta nel cuore le persone devono amare e rispettare amici youtube grazie a tutti è stato bellissimo e colgo l'occasione in questa sede di augurare a tutti quanti voi un buon natale grazie per aver portato il primo canale di marco liguri a livelli inimmaginabili aiutatemi a far crescere anche la pagina facebook albano carrisi fan club e il mio instagram marco liguri 7 contenuti esclusivi contenuti straordinari contenuti che come oggi mi hanno fatto commuovere spero vi abbiano fatto commuovere a 500 like realizzerò di nuovo un nuovo ed emozionante video di albano carrisi intanto mettiamo agli archivi mettiamo in ghiaccio le meravigliose parole le meravigliose dediche la dedica che albano ha fatto alla signora iolanda mi sono commosso in diretta anche questo e il bello della diretta iscrivetevi al primo canale di marco liguri attiva della campanella seguitemi su instagram marco liguri 7 ciao a tutti